Ha indossato una maschera di carnevale assumendo il volto di un anziano, quindi pistola in pugno ha assaltato una banca. La rapina avvenuta alla vigilia del martiri grasso è stata compiuta alla filiale della banca del Monte di Lucca di Via Fermi a Sant'Agostino. L'uomo, sembra si tratti di un italiano che indossava una tuta da lavoro, ha parlato a bassa voce all'impiegata della cassa puntandole contro l'arma, non è chiaro se è vera o anch'essa posticcia, intimando alla donna e quindi al direttore dell'istituto di consegnare il denaro. Dai primi conteggi sembra che il rapinatore sia riuscito a portar via circa 7.000 euro, quindi l'uomo è uscito dandosi alla fuga su di una mountain bike pedalando verso il centro città. Sul posto sono giunti, una volta dato l'allarme, i carabinieri, coadiuvati nelle ricerche dalla polizia. Tutta la zona è stata abbattuta a tappeto dalle forze dell'ordine. Fondamentali nelle indagini sono ora le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza della banca che hanno ripreso l'intera scena. Il colpo messo a segno a Pistoia presenta infatti delle notevoli somiglianze con altri compiuti in Toscana, come quello commesso nel maggio scorso a Porcari. Anche allora, sempre puntando in una filiare del Monte di Lucca, un uomo con indosso una maschera di carnevale aveva compiuto una rapina. Allora il bottino fu di 4.000 euro. Ancora prima, nel mese di marzo, un caso analogo era successo a Lucca, questa volta ad una filiale Unicredit.